Eccoci, seconda parte di Metropolis, come facciamo sempre il lunedì, ci occupiamo di pensioni. Oggi lo facciamo con Remo Guerini, direttore patronato Inas Cisl della Lombardia. Buon pomeriggio, Remo. Buon pomeriggio. Allora, oggi per introdurre l'argomento, io ricordo come sempre che chi vuole può telefonare o può mandarci anche brevi messaggi attraverso WhatsApp. Per introdurre l'argomento parliamo del bonus, bonus di 200 euro esteso a Colf e Badanti. E' questo previsto all'interno di quello che è il decreto aiuti? Esatto, esatto. Quindi è proprio un argomento attuale, recente, il 17 maggio, quindi pochi giorni fa. E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto aiuti, che prevede un bonus di 200 euro per una platea di laboratori e cittadini abbastanza importanti. Adesso magari li riepiloghiamo tutti, di modo che i nostri ascoltatori, come dire, prendano appunti e sono sempre preparati su tutte le novità, perché sono sempre molto attenti e molto precisi. Quindi proprio per contrastare l'aumento dei prezzi e dell'energia è stato pubblicato questo decreto aiuti che permette per tutti coloro che hanno un reddito del 2021, quindi dell'anno scorso, inferiore a 35 mila euro, di avere un bonus di 200 euro, una tantum, chiaramente, che verrà erogato con il mese di luglio. Ecco, diciamo che sono coinvolti tutti i dipendenti, i pensionati e anche i lavoratori autonomi. Esatto, quindi c'è proprio un elenco preciso di soggetti a cui spetta questa misura. Siamo ancora in attesa del decreto attuativo che andrà a chiarire poi tutte le caratteristiche, tutti i dettagli che dovranno essere rispettati. Però sappiamo che sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è indicato che questo bonus, nel rispetto chiaramente dei parametri reddituali, spetta ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, spetta ai pensionati, quindi i pensionati che ci seguono, avranno questo bonus, se sono chiaramente al di sotto dei 35 mila euro per l'anno 2021 e per i pensionati c'è anche una postilla in più. Devono essere residenti in Italia, quindi attenzione, è importante che il pensionato sia residente in Italia, quindi tutti coloro che hanno spostato la residenza per motivi, per esempio fiscali, all'estero, sembra non possano rientrare. Sono rientrano, ecco questo è importante perché ne abbiamo parlato spesso, i titolari di Ape Sociale. Abbiamo parlato spesso di Ape Sociale, abbiamo indirizzato spesso i lavoratori a fare l'Ape Sociale per accompagnarli alla pensione di vecchiaia, l'Ape Sociale non è una vera e propria pensione, lo sappiamo perfettamente, però questo bonus spetta anche a loro. E come dicevi giustamente tu, il bonus dei 200 euro spetta anche ai lavoratori domestici, colfe e badanti. La cosa importante è che mentre per i lavoratori dipendenti, per i pensionati, il pagamento sarà automatico da parte del datore di lavoro e da parte dell'Inps, le colfe e le badanti devono venire al patronato della CISL per fare appunto questa domanda, perché bisogna fare proprio una richiesta specifica, come è stato fatto durante il Covid per questi lavoratori che insomma hanno, come datore di lavoro, un soggetto che non gli eroga le prestazioni. Ecco, dovremmo avere una chiamata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Carreras. Buongiorno signor Carlo, prego. Saluto il suo gentilissimo ospite delle pensioni. Volevo solo dire una cosa velocissima, ma non si vergognano questi della politica a fare queste cose. Io ho avuto il doppio dell'aumento dell'energia elettrica da 90 euro 214, idem del gas, idem delle spese condominiali, cioè il 30% in più delle rate rispetto all'anno scorso. Io con questi 200 euro non recupero niente, cioè è un'elemosina che sono 50 centesimi al giorno, è finita lì. Cioè ma di che classe politica stiamo parlando? Ma questi dovrebbero vergognarsi di queste cose qui. Praticamente ti danno un contentino e come al solito gli italiani hanno piuttosto che niente le meglio piuttosto, e andiamo avanti così. Io ogni anno tirerò fuori, e non ce la faccio già più, 2250 euro all'anno in più da questo anno. Di conseguenza di cosa stiamo parlando? Ia riaffetta. La saluto dottor Carrera. Grazie, grazie signor Carlo. Ecco Remo, Carlo appunto diceva, parlava ovviamente dell'aumento delle bollette, dei prezzi, lo vediamo ahimè tutti sulle nostre spalle, e quindi molti contestano questi 200 euro. È chiaro che appunto non sono un qualcosa che possa così creare sostegno, è un qualcosa, un aiuto in un momento di grossa difficoltà. Certo, quindi è chiaro che la telefonata che ha fatto il nostro telespettatore, non è che richiede una risposta, noi stiamo dando un'informazione che, come dire, non siamo né noi decisori, quindi noi stiamo dando un'informazione proprio perché c'è questo bonus che è stato appena pubblicato in gazzetta ufficiale, ci sono una categoria di lavoratori e pensionati che lo avranno in modo automatico, ci sono una serie di lavoratori che invece devono farne domanda, quindi poco o tanto che sia, come dire, il ruolo insomma in questo momento che stiamo esercitando è quello di dare un'informazione tempestiva su una misura e soprattutto su una misura che alcuni lavoratori dovranno richiedere perché se no non gliela danno. Quindi, insomma, in questo momento qua il nostro compito è quello di dare un'informazione il più precisa possibile in attesa ancora di una pubblicazione del decreto attuativo. Quindi dicevamo che le colfe, le badanti e i lavoratori domestici in genere devono andare al patronato perché questi soldi non vengono erogati automaticamente, quindi tutti coloro che hanno una colfe, una badante, insomma, devono dare questa informazione perché se no automaticamente non viene erogato, quindi il patronato INAS è a disposizione in tutte le città della Lombardia per fare questa domanda alle colfe e alle badanti. È previsto anche per coloro che sono in disoccupazione, in NASPI e di SCOL, per coloro che sono appunto in disoccupazione indenizzata con il mese di giugno del 2022 e anche coloro che hanno percepito la disoccupazione agricola. Il bonus del 200 euro è previsto anche per i percettori del reddito di cittadinanza. Anche in questo caso il pagamento dovrebbe essere automatico da parte dell'Inps perché tanto il reddito di cittadinanza viene erogato direttamente dall'Istituto. Così come lo dicevi tu in premessa, sono previste alcune categorie come lavoratori autonomi, collaboratori coordinati continuativi e lavoratori stagionali intermittenti dello spettacolo. Quindi abbiamo proprio una fascia molto molto ampia di lavoratori che potranno beneficiare di questo bonus dei 200 euro. Ecco, Remo, è bene anche chiarire una questione che so che aveva sollevato già delle polemiche. Questi 200 euro si intendono 200 euro netti o chi li riceve in busta paga o il pensionato vanno a comporre il reddito e dunque a un qualcosa in più sul quale pagare le tasse? Allora, in genere i bonus si sono sempre comportati senza che vengano tassati, senza che questi vadano a concorrere per il reddito tassato. È una voce al netto, diciamo così. Non viene sicuramente tassato, però dobbiamo aspettare il decreto attuattivo. Quindi il bonus, il senso del bonus, tutti i bonus che sono stati erogati fino ad oggi erano comunque degli unatantum che sono stati erogati e punto, insomma, non avevano tassazione. Lo dicevamo, il pagamento dovrebbe essere effettuato con il mese di luglio, sia per i dipendenti, i lavoratori dipendenti, privati, pubblici che i pensionati. Per queste categorie, ripetiamolo, avviene tutto in modo automatico, come per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e anche, presumibilmente, per coloro che sono in disoccupazione e naspi. Per quanto riguarda invece i lavoratori che devono fare la domanda, però dobbiamo attendere ancora il decreto con tutte le istruzioni, ci sono le colt, le badanti, i lavoratori autonomi e i lavoratori stagionali, intermittenti, collaboratori coordinati e continuativi. Il decreto abbraccia veramente una platea molto ampia di lavoratori, diciamo che non esclude praticamente nessuno e quindi questo decreto che è in fase di emanazione andrà a chiarire tutte le modalità per poterne fare richiesta per coloro che chiaramente non hanno il pagamento automatico. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Armando, chiamo da Varese. Prego, signor Armando. Avrebbe parlato di tutte le categorie, quelle più importanti non ne avete detto niente. Noi invalidi civili non abbiamo diritto? Si riferisce sempre al bonus dei 200 euro. Sì. Allora, invalidi civili, va bene, le rispondiamo. Grazie della chiamata. Allora, guardi, questa è una domanda molto molto interessante perché l'invalidità civile, l'indennità di accompagnamento sono sempre delle prestazioni erogate da INSS ma assistenziali. cogliamo proprio l'occasione per segnarci un appunto perché quando verrà pubblicato il decreto di cui facevo cenno prima ci sarà sicuramente l'approfondimento anche per queste categorie. È chiaro che se l'invalido civile e il titolare dell'indennità di accompagnamento è a sua volta un titolare di pensione perché ha la pensione lavorativa, la pensione derivante dall'attività svolta oppure è un lavoratore invalido civile, il problema non si pone perché rientra automaticamente all'interno delle altre categorie che sono più facili da identificare. Se invece abbiamo il cittadino che è titolare soltanto di invalidità civile, me lo segno, quando uscirà il decreto, quando verrà pubblicato il decreto mi riservo di dare la comunicazione anche per questa categoria sulle modalità. Ecco, dobbiamo anche ribadire la questione della soglia dei 35 mila euro, giusto? Allora, dobbiamo ribadire il fatto che non è erogato a pioggia tutti, ci sono dei requisiti, abbiamo una soglia di 35 mila euro per i redditi 2021 che non deve essere superata, bisogna fare delle esclusioni dai 35 mila euro come per esempio l'indennità di accompagnamento, quindi per esempio il pensionato che percepisce 500 euro al mese di indennità di accompagnamento, ecco l'indennità di accompagnamento non rientra nel computo del limite di reddito di 35 mila euro, non rientra la casa di evitazione, quindi fondamentalmente ci sono alcuni redditi che non vanno presi in considerazione per quanto riguarda i 35 mila euro, come non rientrano nel calcolo dei 35 mila euro l'assegno al nucleo familiare e l'assegno unico universale che viene pagato per quanto riguarda i figli a carico, ne abbiamo parlato spesso anche nelle nostre trasmissioni, quindi il decreto che andrà a essere chiaramente più chiaro e dettagliato, andrà poi a dettagliare nel modo preciso anche tutte le categorie un pochino più particolari come gli invalidi civili, ma anche tutti i redditi che non si prendono in considerazione per la soglia dei 35 mila. Perfetto, ci fermiamo alcuni istanti, c'è una breve fascia pubblicitaria e poi ancora insieme a Remo Guerini. Eccoci ancora in vostra compagnia, in compagnia del nostro esperto Remo Guerini, direttore del patronato Inas CISL della Lombardia. Prima dell'interruzione pubblicitaria un telespettatore ci chiedeva ragguagli sull'invalidità civile, gli invalidi civili in rapporto ai 200 euro erogati nel prossimo mese di luglio dal governo. Possiamo dare una precisazione? Sì, sì, perché abbiamo preso proprio il testo del decreto durante la pausa pubblicitaria, proprio perché effettivamente, insomma, e possiamo dare già la notizia in modo preciso, perché quando si parla di pensionati, abbiamo chiarito che il pensionato al di sotto dei 35 mila euro di reddito nel 2021 ne ha diritto, all'interno della categoria pensionati rientrano anche i titolari di pensione e assegno sociale e anche i titolari di assegno o pensione di invalidità civile, ricordiamo, residenti in Italia. Quindi all'interno del computo dei 35 mila euro, ricordiamolo proprio per questa categoria, l'indenità di accompagnamento non si conta, quindi fondamentalmente si può togliere l'indenità di accompagnamento dal raggiungimento dei 35 mila euro e l'erogazione dovrebbe avvenire in modo automatico con il mese di luglio, però appena uscirà il decreto attuativo poi ritorniamo chiaramente sull'argomento. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno signor Tererri, sono Michele. Volevo fare una domanda prima a lei. Prego. Nei tre numeri sotto lì, adesso ho fatto il primo numero che ha il simbolo rosso, è quello da fare, perché poi negli altri due uno risponde a una segreteria telefonica, l'altro non sa nemmeno cosa, perché io non ho... Ah, non ha il Whatsapp. Non ho niente, però risponde una segreteria telefonica che non sa, magari prende i soldi, non lo so, glielo chiederemo. Il numero corretto è quello che lei vede. È il primo numero quello corretto. Esatto, sì. Poi invece il signor Guerrini, quindi quello da fare è lo 0,2 43 43, va bene. Poi il signor Guerrini invece, potrei fare un'altra domanda se era possibile. Prego, l'ascoltiamo. Riguardo alle pensioni. Io dico, ma è mai possibile che 200 euro date così, sono una miseria perché non rappresentano malapena 60 centesimi al giorno, non possano essere trasformati in un 25 euro fissi come aumento di stipendio, è per sempre. È sempre poco, però perlomeno rimane. Ma 200 euro? Io ho pagato la bolletta dell'elettricità, 209 euro. Vale a dire che i 200 euro entrano nella tasca a sinistra e escono nella tasca a destra per pagare l'elettricità. Ho perso 9 euro. Certo. Lei questo lo giudica un bonus? Grazie, grazie Michele. Sono naturalmente le persone che protestano in relazione a questi 200 euro. Come dicevamo, naturalmente noi con Remo Guerrini stiamo spiegando un po' il funzionamento della cosa. Poi sull'entità dei 200 euro ci sarebbe da disquisire in termini politici, ma naturalmente quello lo facciamo solitamente con gli ospiti che sono politici e che quindi ognuno dice la sua. Da un punto di vista tecnico, appunto, Remo Guerrini sta spiegando come vengono erogati questi 200 euro. Giusto, Remo? Esatto. Poi quando avrai gli ospiti politici, insomma, i nostri telespettatori potranno far presente che l'importo può essere elevato in quanto non copre tutti gli aumenti che sono stati, che sono avvenuti. Noi in questo spaccato che è semplicemente tecnico e che dobbiamo informare del funzionamento. Dobbiamo informare e dobbiamo dare, come dire, gli strumenti ai tanti telespettatori che ci seguono di mettere in atto, come dire, le pratiche corrette con il patronato, nel mio caso, quando vanno presentate le pratiche, per non perdere determinati benefici, oppure devono essere informati perché, ipotesi, se questo bonus, poco tanto che sia, magari non arriva, insomma, magari uno contatta il datore di lavoro, ci sono anche delle aziende piccoline. Quindi noi con questa trasmissione, insomma, nel corso degli anni abbiamo sempre dato, come dire, la notizia e abbiamo cercato di, oltre alla notizia, dare anche lo strumento per poter esercitare il diritto che in un certo qual modo è previsto dalla norma. Quindi stiamo cercando, con questa trasmissione, di dare, di spiegare anche in modo un pochino semplice, un po' semplice e anche in modo molto artigianale, come fare per avere diritto alla pensione, alla 402, all'opzione ton. Cioè, poi, nel merito, quando ci sono gli ospiti politici potete fare tutte le vostre domande. Ci scrive un altro telespettatore che ci chiede l'UMI, lui dice sulla quota 102, cioè, praticamente ci dice che il requisito dei 64 anni e dei 38 di contributi a lui gli arriverà il prossimo anno. E allora ci chiede che cosa potrà accadere. Il problema, lo abbiamo detto più volte, è che questa quota 102 vale per tutto il 2022 fino alla fine dell'anno. Cosa accadrà dopo? Non lo sappiamo ancora. Questo telespettatore avrà questi requisiti, 64 anni di età e 38 di contributi nel 2023. È chiaro che noi oggi non sappiamo ancora se quota 102 verrà prorogata così com'è oppure verrà modificata, ci sarà una nuova riforma delle pensioni. Remo, cosa possiamo dire? Allora, sì, diciamo che la quota 102 è una misura temporanea. Quindi, così come la quota 100 l'anno scorso, che è rimasta in vigore per tre anni. La quota 100 non ha avuto un periodo molto breve. La sperimentazione era per tre anni e tre anni durata. La quota 102 durerà soltanto l'anno 2022. Quindi i requisiti si devono perfezionare all'interno del corrente anno. Al momento quello che possiamo dire al nostro telespettatore è di stare con le orecchie aperte alla nostra trasmissione, perché noi man mano che ci sono le novità ve le raccontiamo. Ecco, quindi belle o brutte che siano. Quindi diciamo che la quota 102 al momento non è prorogata per l'anno prossimo. Si parla sicuramente, questa è una buona notizia che possiamo dare ai nostri telespettatori, si parla sicuramente di novità previdenziali per il prossimo anno. Dove si andrà però a parare, insomma, ancora non lo sappiamo. Non sappiamo se sarà la proroga della quota 102 oppure una maggiore flessibilità in uscita per quanto riguarda le pensioni, oppure l'istituzione di una nuova quota, oppure l'istituzione di qualche altra novità pensionistica. Sicuramente oggi il nostro telespettatore deve sapere che non potrà andare in pensione con la quota 102 perché purtroppo i requisiti non li perfeziona nell'anno 2022. Ci avviamo alla conclusione, l'ultima proprio risposta da parte tua. Una signora che ci dice sono interessata a opzione donna, ho 56 anni e 30 di contributi. Posso andare in pensione con questo strumento? Allora, questa è un'altra bella domanda. L'opzione donna, anche l'opzione donna è nata come misura sperimentale e ormai è diventata strutturale perché ogni anno viene prorogata in modo abbastanza naturale. Oggi i requisiti per andare in pensione con l'opzione donna sono 35 anni di contributi e 58 anni di età oppure 59 anni di età per le donne autonome. Quindi 58 anni di età per le donne dipendenti e 59 per le donne autonome. Quindi lei ha 56 anni ma è un po' giovane e 30 di contributi. Dobbiamo un po' aspettare, dobbiamo comunque attendere, però una cosa interessante che possiamo dire sull'opzione donna è che le lavoratrici donne non devono assolutamente escludere questa modalità a priori. Perché? Perché è vero che l'opzione donna ha un sistema di calcolo che è contributivo, totalmente contributivo e tutti sappiamo che il contributivo in larga misura è un po' più svantaggioso del sistema di calcolo retributivo o misto. Però è anche vero che con l'introduzione della riforma Fornero ad oggi il procuota contributivo anche delle pensioni misti è molto molto largo. Quindi quando ci facciamo una proiezione economica alle lavoratrici donne, quando facciamo le proiezioni economiche, perché noi del patronato della CIS, perché diciamo sempre se vai col sistema misto con la pensione anticipata della Fornero percepisci 100, se vai con l'opzione donna invece percepisci 90. man mano che andiamo avanti queste due soglie sono sempre più simili. Cioè quindi mentre all'inizio c'era un abbattimento molto molto alto, oggi con la simulazione che facciamo, essendo il procuota contributivo della pensione mista molto ampio, i due importi iniziano a essere abbastanza simili. È chiaro, è chiaro. Annetto del fatto che l'opzione donna ti permette di andare in pensione sei anni prima, insomma. Ma ecco qui. Non è poco. Non è poco. Non è poco. Va bene, ringrazio tantissimo. Remo Guerini, direttore e patronato Inas CIS della Lombardia. Grazie Remo e alla prossima ovviamente. Grazie a voi, è sempre un piacere. Beh, ricordo Metropolis che ritorna domani sempre alle 13 e 15. È tutto, buona continuazione. Grazie a voi.